Il marito si affacciò dalla cucina e disse dolcemente, tesoro, ho preparato tutto per te. Assicurati di cenare. Hai l'abitudine di portare a casa scatole di cibo. Lussi lo baciò sulla guancia e rispose, come vuoi tu, amore. Ma non dimenticare di leggere Adan la favola della buonanotte. Perché non posso lavorare solo di giorno? Il coniuge la strense a sé e le sussurrò dolcemente all'orecchio. In questo modo nessun treno viaggerà senza di te. Dopotutto, sei in servizio alla stazione ferroviaria. È un enorme carico di responsabilità e molto dipende da te. Lussi non aveva dimenticato il lavoro che doveva svolgere ogni giorno. È vero. Bene, non annoiarti qui senza di me. A proposito, Bert, hai promesso che avresti parlato con il tuo capo di una vacanza. L'anno scorso non siamo andati da nessuna parte. Almeno questa volta non ci deluderà. Il marito annui e ricambiò il bacio alla moglie. Chiedo il permesso di adeguarmi, compagno comandante. Lussi sorrise, diede una rapida occhiata all'orologio e saltò fuori dall'appartamento. Si stava facendo tardi, così l'auto di turno venne a prendere Lussi. Era l'unica lavoratrice della stazione di polizia di cui il capo non solo si fidava implicitamente, ma di cui teneva conto. 20 minuti dopo erano sul posto. Dopo aver fatto il suo turno, Lussi controllò il registro e poi andò a fare il suo giro con una grande torcia in mano. Camminò lungo i binari della ferrovia, ma non notò nulla di insolito. Tutto era tranquillo. Non c'erano persone sospette che si aggiravano per la stazione, né cani da guardia che abbaiavano. Così potei tirare un sospiro di sollievo e passare la maggior parte del tempo nella sala di servizio. Era previsto che il primo treno con carbone proveniente dalla regione vicina passasse dalla stazione. Ma il suo arrivo era previsto tra un'ora e mezza. Lussi preparava con calma il tè e tirava fuori i suoi cruciverba preferiti. Non si accorse quando arrivò il momento di andare sui binari per incontrare il treno Merch. Prendendo una torcia, Lussi uscì dalla stanza e si diresse verso il passaggio a livello. C'era già un lungo suono di clacson proveniente dal lato est. Era il macchinista del treno che le faceva capire che non era lontano. Lussi si mise al posto giusto e si preparò a fare un segnale con la torcia. Era così silenzioso che era come se tutto intorno a lei si fosse fermato. Anche in questo caso Lussi guardò l'orologio e si accigliò leggermente. Il treno Merch si stava già avvicinando. Improvvisamente sentì il lieve suono del pianto di un bambino. Sembrava che un bambino si trovasse da qualche parte nelle vicinanze e si inghiozzasse forte. Avvicinando il fascio di luce della lanterna al palo, Lussi non trovò nessuno. Sospirando pesantemente, si disse, oh, devo andare in vacanza. Sto già sognando i bambini di notte. Ma neanche dieci secondi dopo, il pianto di un bambino squarciò di nuovo l'oscurità. Lussi guardò i cani, che erano seduti vicino alla cuccia, e si chiese, cosa c'è? Se c'è un intruso, perché sono in silenzio? Ora Lussi puntò la torcia direttamente sui binari della ferrovia. Ciò che vide le fece quasi fermare il cuore. C'era una cesta adagiata sui binari, così piccola che nell'oscurità non sarebbe stata notata subito. In quel momento il treno Merch stava accelerando e si stava avvicinando rapidamente. Senza pensare alle conseguenze, Lussi si precipitò sui binari e all'ultimo momento, sotto il forte rombo del treno, afferrò il cesto e cade di lato. Sdraiata sul bordo della scarpata, ebbe appena il tempo di notare il treno che faceva scivolare le sue pesanti ruote di ferro sul tratto di binario dove solo un attimo prima giaceva la sua scoperta. Il macchinista imprecò contro Lussi e guidò il treno per la sua strada. Non riusciva a immaginare per quale motivo la capostazione stesse rischiando la vita. Il bambino pianse di nuovo. Lussi con lui. Lo strinse a sé, trattenendo a stento le lacrime. Non potendo più restare vicino ai binari, la donna tornò al suo posto. Esaminando il bambino, si rese conto che aveva solo pochi mesi, e subito nella sua mente sorsero le domande chi aveva potuto fare una cosa del genere. Chi aveva potuto prendersi un tale peccato sulla sua anima? E per cosa? In fondo alla cesta c'era un biglietto che a grandi lettere diceva, non lo voglio. Lussi sussurrò ad alta voce, che razza di mamma. Non aveva nemmeno paura di portarlo qui. Aveva un'intera sezione di stoffa nell'armadio. Per ogni evenienza. Ma sembrava che stesse per arrivare. Dopo aver messo via il pannolino bagnato, Lussi tirò fuori dalla borsa delle salviette umidificate e asciugò il bambino, poi lo avvolse di nuovo. Ma il bambino, sebbene leggermente più calmo, aveva chiaramente fame. Con mani tremanti Lussi compose il numero del marito. Bert, prendi un taxi e vieni subito alla mia stazione. Oh, e chiama tua madre e falle fare babysitter a Dan. Il marito non fece domande e arrivò mezz'ora dopo. Gettando uno sguardo prima alla moglie e poi al bambino, disse, wow, avevo la sensazione che questa notte avremmo avuto un miracolo. Lussi guardò il marito con occhi sorpresi. Che cosa era successo? Bert sorrise e rispose, beh, hai salvato un bambino da sotto le ruote di un treno. Gli hai dato una seconda possibilità. Non perdiamo altro tempo. Io porto il bambino a casa e tu lo dici ai tuoi superiori. Forse ti lasceranno andare e allora andremo insieme. Lussi scosse la testa, non posso, Bert. Oggi farò un turno di lavoro e poi vedremo. Il marito non le fece cambiare idea, perché sapeva che sua moglie non faceva niente per niente. Se aveva deciso di non fare storie, c'era una buona ragione per farlo. Prendendo il cestino con il bambino da Lucy, Bert salì su un taxi e partì. Era arrivato il momento in cui poteva piangere senza che nessuno la vedesse. Lucy non trattenne le sue emozioni e solo le sue spalle tremanti parlarono di ciò che stava provando. Dopo aver lavorato fino al mattino, Lucy rientrò dal suo turno, ma non disse a nessuno del bambino. Voleva scoprire chi fosse la madre e perché lo avesse portato qui. Pensò di andare alla polizia, ma mentre tornava a casa cambiò idea sullo scrivere un rapporto. Tuttavia, a casa mio marito ha espresso la sua posizione. Non ho nulla in contrario a lasciare il bambino con noi. Ma prima deve necessariamente mostrarlo ai medi. E informare le autorità di tutela. Anche la madre di Bert era nell'appartamento. Non è mai tornata a casa. Ha ragione, Lucy, facciamo quello che dice la legge. Anch'io mi sono preoccupata per il bambino e sono rimasta sveglia tutta la notte. Mi sono seduta accanto a lui e gli ho accarezzato la testa. Non ci credereste, ma il mio cuore è quasi saltato fuori quando ho pensato a ciò che il bambino ha dovuto sopportare di notte e sulle rotaie. La suocera piangeva, si vedeva che lo pensava davvero. Lucy ci pensò un po' e decise che era giusto così. Quello stesso giorno lei e il marito chiamarono le autorità di assistenza all'infanzia. Il personale è arrivato un paio d'ore dopo. Quindi è ancora un bambino. Dio, chi lo lascerebbe sui binari della ferrovia di notte. La donna si è addolorata come se fosse suo figlio. Il cuore di una madre è così, pieno di gentilezza e tenerezza. Pensando a questo, Lucy si chiese mentalmente e in questo caso? Il cuore non si è sentito male? Bert notò la confusione sul volto della moglie e si rivolse personalmente agli ufficiali di custodia. Vedete, qual è il problema? Abbiamo un figlio, ha tre anni, ma è da molto tempo che progettiamo un altro bambino. Forse questo è un segno del destino, secondo lei? Guardandolo con aria interrogativa, l'impiegato ha risposto, non lo so, non sono una persona superstiziosa, ma posso solo prometterle che non le metterò i bastoni tra le ruote se vorrà visitare il bambino all'orfanotrofio. A proposito, come si chiama? Lucy tirò fuori dalla borsa il biglietto nel cestino. Non ho trovato nient'altro, solo questo pezzo di carta. Dopo averne letto il contenuto, l'assistente sociale fece una smorfia accigliata e dichiarò, non sono un'esperta di calligrafia, ma la calligrafia è un po' strana. Beh, non è solo la madre. Visto che il bambino non ha un nome, lo chiameremo Vic possiamo dire che ha ottenuto una piccola vittoria nella lotta per la sua stessa vita. Vedendo gli operatori, Lucy non riusciva a nascondere la sua eccitazione. Voleva abbracciare il bambino e non lasciarlo più. Da allora erano passati due giorni. Il fine settimana è volato e Lucy è tornata al lavoro. Ma non si comportava in modo così rilassato, probabilmente pensando al bambino e preoccupandosi del suo destino. Quanto al marito, Bert cercò di distrarre la moglie dai pensieri tristi in tutti i modi possibili. Ma, a dire il vero, non era molto bravo. Va bene, mi arrendo, Lucy, non ti calmerai. Andiamo a vedere il bambino domani prima del turno di notte. Anch'io sono preoccupata per il suo futuro. Lucy guardò il marito e disse, non ho mai dubitato che tu sia una persona sincera e di un cuore. E ora sono convinta della tua gentilezza. Sarebbe bello andare a trovare Vic. Ma solo dopo il mio turno. Altrimenti, se lo vedrò prima, non potrò lavorare. La giornata passò velocemente. La sera Lucy tornò a casa. A cena non disse molto. Rispose con brevi frasi che tutto andava bene e che non c'erano problemi al lavoro. Ma nascose il fatto che il capostazione aveva saputo che un bambino era stato trovato sui binari. Era un bene che il capo la rispettasse e non prendesse alcuna misura punitiva. In ogni caso, Lucy si limitò ad ascoltare le sue lezioni e la cosa finì lì. Il giorno dopo andò a trovare la suocera. Peggy, non posso più portare questo peso. Non voglio che tu mi giudichi, ma voglio prendere il bambino. Non lo conosco veramente e non so chi siano i genitori, e così sia. Il bambino avrà una nuova famiglia. Peggy la guardò come se volesse capire la natura della nuora, sarò sincera. Ho visto la faccia di mio figlio e ce l'aveva scritto in fronte, lascialo restare. Se decidi di prenderlo in custodia. Non solo approverò, ma ti aiuterò. Lucy non si aspettava un tale sostegno da parte della suocera. Grazie, mamma. Non lo dimenticherò mai. Oggi sono di turno e domani io e Bert andremo all'orfanotrofio di Vic. Verrai con noi? Mia suocera annui con un cenno di assenso. Certo. Soprattutto perché ho trascorso abbastanza tempo con lui per onorarlo ancora una volta della mia presenza. Durante il turno di notte, come al solito, Lucy fu portata alla stazione dall'auto di servizio. Durante il viaggio, l'autista l'ha intrattenuta con battute che però non hanno avuto una risposta adeguata. Alla fine smise di scherzare, avendo capito che la donna di turno oggi non rideva. Dopo aver accettato il turno, Lucy sfogliò il registro e firmò il suo nome. Sola con il silenzio, i pensieri tristi cominciarono a sopraffarla di nuovo, ma li scacciò come meglio potè. Uscendo, Lucy si avvicinò ai cani e parlò come se capissero il linguaggio umano. Ragazzi, non deludetemi, tenete gli occhi aperti. Non lasciate che un estraneo si aggiri qui. I cani si limitarono ad abbaiare e a scodinzolare. Dopo essersi guardata intorno, Lucy tornò alla posta. Il primo treno che passava per la stazione doveva partire a mezzanotte. Risolvendo i suoi cruciverba preferiti, Lucy non guardò l'orologio. Sapeva già quando sarebbe dovuta scendere. Circa un'ora e mezza dopo, si sentì uno strano trambusto non lontano dalla stazione. Poi i cani iniziarono ad abbaiare, annunciando che c'era un intruso. Lucy non aveva mezzi di difesa. Così uscì con una torcia e un bastone, facendo brillare il fascio di luce nella direzione in cui erano corsi i cani, vide la sagoma di una sagoma. Ma non riuscì a capire se fosse maschio o femmina. Poi fece qualche passo nella sua direzione. Solo allora notò che si trattava di un uomo, che ovviamente stava cercando qualcosa sulle rotaie. Pensando a dei ladri di rottami metallici, Lucy urlò più forte che poteva e corse dai cani per sguinzagliarli. Ma l'uomo misterioso riuscì a scappare. Nella fretta gli era caduto qualcosa. Lucy vide un oggetto metallico che lucicava alla luce della torcia. Accendendo la torcia sul posto, trovò un accendino. Non aveva un aspetto insolito. Ma il materiale di cui era fatto sembrava argento vecchio con una patina scura ai bordi. Facendo ruotare il reperto tra le mani, Lucy scrollò le spalle e tornò al suo posto. Il resto del turno trascorse senza incidenti e al mattino lo consegnò tranquillamente. A casa Lucy vide il marito andare al lavoro e, nella fretta, non gli raccontò gli eventi della notte e l'accendino che aveva trovato. Era molto preoccupata per quello strano uomo, che si aggirava nel punto in cui aveva da poco trovato la cesta con il bambino. Ripercorreva mentalmente tutti i dettagli di quella notte. Lucy si chiese se l'avesse portata lì. Dopotutto, l'assistente sociale aveva suggerito che qualcun altro era chiaramente coinvolto. Dopo poche ore di sonno, si alzò e andò in cucina. I pensieri sugli eventi della notte la tenevano sveglia. Tirò fuori il reperto dalla tasca e lo esaminò con attenzione, e solo ora riuscì a vedere l'incisione appena leggibile sul fondo della custodia. Si leggeva, per la felicità dell'amato. Nello stesso momento si sentì come fulminata e l'accendino cade a terra. No, non ci credo, non può essere stato lui. Cercando di ricordare, disse ad alta voce, gli ho dato lo stesso accendino con l'incisione. Parlava di un ex marito che l'aveva lasciata per una giovane amante. Paul le disse alcune parole offensive di comiato, non voglio il tuo borscht e i tuoi letti puliti. Voglio novità ed eccitazione, e tu sei già diventata una vecchia. Quindi addio! D'altra parte, cosa poteva avere a che fare con questo bambino? Così decise di trovare il suo ex marito. Non fu così facile. Ma tre giorni dopo aveva in mano l'indirizzo di Paul. Dicendo al marito che sarebbe andata da un amico, Lucy si precipitò dall'altra parte della città, nel quartiere delle camere da letto, per sentire la verità di persona. Paul era in casa, ma era estremamente confuso quando vide Lucy sulla soglia. Wow! Guarda quanta gente! Che ci fai qui? Immagino che ti sia mancato e che tu abbia deciso di tornare. Dopo aver dato un'occhiata alla casa, Lucy chiese, dove è la tua signora? Sei solo adesso? Paul rispose ironico, che ti importa? No, l'ho seppellita un paio di mesi fa. C'era qualcosa che non andava nel suo cuore. La mente di Lucy suonò come una campana. Anche il bambino che aveva trovato non aveva più di due mesi. Non sapendo come affrontare la questione, decise di andare al sodo. Che cosa le è successo? L'ha fatta impazzire. Per avvicinarlo alla verità, Lucy decise di farlo uscire allo scoperto. Ho trovato il tuo accendino, quello che ti ho regalato per il tuo compleanno, e puoi indovinare dove è successo. Paul divenne subito bianco dalla paura. Non è possibile. Quindi eri tu quello che urlava là fuori? Lucy annui con la testa. Avrei fatto scendere i cani, ma tu sei riuscito a scappare in tempo. Allora confessa, era il tuo bambino sui binari? La situazione non era a suo favore e Paul cominciò a camminare ansiosamente per l'appartamento. Beh, cos'altro avrei dovuto fare? Aveva il bambino. Stava bene. Ma poco dopo peggiorò. I medici le prescrissero dei farmaci e dissero che si trattava di una complicazione. Non so cosa diagnosticarono, ma solo due mesi dopo Emma morì e la seppellimmo. Lucy si sedette sulla sedia. Continua, ti ascolto. Paul abbassò gli occhi. Ho intestato il bambino a me, naturalmente, quando Emma era ancora sana. Ma poi ho dovuto affrontare qualcosa che le parole non possono descrivere. Comunque, decisi di portarlo alla stazione di polizia e di dimenticare tutto. Il volto di Lucy si contorse a quella confessione. Sei fuori di testa? Lei si definisce un padre. Perché non l'ha dato all'orfanotrofio? Paul continuò a dire che aveva bevuto per giorni, cercando di dimenticare se stesso. Ma i suoi amici, che si trovavano nelle vicinanze, avrebbero iniziato a fargli pressione sulla coscienza, dicendo che il povero bambino non c'entra nulla. E, finalmente smaltita la sbornia, decise di riportare indietro il bambino. A questa sciocca versione di Lucy, naturalmente, non credeva. Non mentire a te stesso, gli dispiaceva per il bambino. È imbarazzante vederla contorcersi, parlare a vanvera e fingere di essere preoccupata. La verità è che avevi paura della prigione. Voglio dire, per una cosa del genere si rischia una condanna decente. Guardandola con occhi spaventati, Paul chiese cosa succederà a Lucy adesso. Tanto il bambino non c'è più. Lei si alzò dalla sedia e disse, spetta al tribunale decidere. Noi cresceremo il bambino da soli, lo sai. Paul fu colto di sorpresa da queste parole. Quindi hai salvato il bambino. È così. Si vede che l'hai fatto apposta, serpente. Si precipitò verso di lei, ma si fermò quando vide lo sguardo minaccioso di lei. Non osare nemmeno toccarmi, avrai ancora più problemi. Lucy lasciò l'appartamento dell'ex marito con una sensazione di grande vittoria. Anche se in un ambiente e in circostanze simili, lo aveva messo al suo posto. Ben presto il personale di custodia si rese conto di chi fossero i genitori del bambino abbandonato. Paul è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio. Per quanto riguarda il bambino, l'ufficio di tutela non vedeva ostacoli all'accordo di custodia. L'ex marito è stato comprensibilmente privato in modo permanente dei diritti genitoriali, il che significa che in futuro non potrà rivendicare il bambino. Bert stesso ha accompagnato la moglie all'orfanotrofio per prendere il piccolo Vic. Il bambino sorrideva e sbatteva le palpebre. Avvicinando il viso, Lucy disse dolcemente, allora, figliolo? Andiamo a casa! Il marito la abbracciò e aggiunse, ecco, la felicità è arrivata per noi. Vicolo ora è nostro figlio. Lasciarono l'orfanotrofio come i genitori più felici del mondo. Se questa storia vi è piaciuta, date un mi piace. Condividete sui social media o scrivete la vostra opinione nei commenti. E naturalmente iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanella per non perdere nessuna nuova storia. A presto! Amatevi!